In questo numero di AgriFood Magazine, dall'Europa via libera alla riforma delle indicazioni geografiche protette, parco agrisolare aumentano le risorse, cala la domanda di carne chianina, l'allarme delle stalle. L'agriturismo vale 1,5 miliardi di euro. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla riforma delle norme per la protezione delle indicazioni geografiche per il vino, altri alcolici e prodotti agricoli. Il nuovo regolamento, adottato con 520 voti favorevoli, 19 contrari e 64 astensioni, contiene misure per proteggere le indicazioni geografiche anche online, dare maggiori poteri ai produttori e semplificare il processo di registrazione dei prodotti. Durante i negoziati con gli stati membri, i deputati hanno insistito affinché le autorità nazionali abbiano l'obbligo di adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o fermare l'uso illegale delle indicazioni geografiche. Per aumentare la trasparenza per i consumatori, il nome del produttore apparirà nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica sulla confezione. Sul web, i nomi di dominio che utilizzano illegalmente le indicazioni geografiche saranno chiusi o disabilitati. L'Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale istituirà un sistema di allerta. Salgono a 1,1 miliardi di euro le risorse già assegnate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai progetti della misura del PNRR Parco Agri Solare, potenziata con il secondo bando voluto dal Ministro Francesco Lollobrigida. L'obiettivo è sostenere, con finanziamenti a fondo perduto, le imprese agricole della produzione primaria e della trasformazione per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali senza consumo di suolo. Prendendo atto della poca partecipazione riscontrata con il primo bando pubblicato nel 2022, è stato attivato fin da subito un attento ascolto delle istanze del comparto produttivo e poi un confronto con la Commissione europea. Si è riusciti a migliorare la misura e il nuovo bando ha ottenuto una straordinaria risposta da parte del mondo produttivo, ha ricordato il Ministro Lollobrigida, che ha evidenziato tra le modifiche l'aumento fino all'80% del contributo a fondo perduto concesso alle imprese agricole su tutto il territorio nazionale. Con questi investimenti si vuole incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili senza alcun consumo di suolo e al contempo sostenere la competitività delle aziende italiane grazie alla riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, che per le imprese agricole rappresentano in media il 20% dei costi variabili. SOS Carne Chianina. A lanciare l'allarme è la CIA di Arezzo spiegando che la Chianina, simbolo delle terre toscane e senesi, è sempre meno richiesta e i produttori stanno facendo i conti con una crisi di mercato grave e con regole sempre più stringenti e di difficile applicazione. La carne Chianina, infatti, non ha solo registrato un crollo del 20% delle vendite, ma anche una riduzione del prezzo da circa 8,50 euro al chilo a 7,50 euro al chilo. L'allevamento di Chianina non è più economicamente sostenibile per gli allevatori, diminuiscono le stalle, calano i capi allevati e la perdita di aziende specializzate è più forte nelle aree più marginali, dove rappresentano anche un elemento di presidio importante. Le abitudini alimentari stanno cambiando, si mangia sempre meno carne e soprattutto si sceglie quella meno pregiata, senza considerare che l'affermazione di nuove realtà commerciali ha svalorizzato il prodotto. Basta infatti un 20% di questa carne per fare un hamburger di Chianina. Di fronte a queste difficoltà, gli allevatori chiedono di avviare una campagna di tutela del prodotto complessiva insieme ad un programma di informazione e comunicazione adeguato per promuovere un'eccellenza a cui tanti allevatori da anni si dedicano con impegno e passione. Negli ultimi anni l'agriturismo è diventato uno dei pilastri dell'agricoltura italiana, rappresentando l'attività di diversificazione più praticata con il 38% delle aziende agricole per un valore di produzione di 1,5 miliardi di euro, che insieme alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale costituisce più di un quinto del valore della produzione del settore primario. Il dato emerge dallo studio il panorama multiforme del turismo rurale, politiche e interventi curato dal CREA, politiche e bioeconomia nell'ambito delle attività della rete rurale nazionale. Questa tipologia di turismo, rileva lo studio, si contraddistingue per la multifunzionalità e la diversificazione delle attrattività dei territori, confermando una crescita di turisti rispetto al 2013 del 40%, di cui il 49% stranieri. Nel nuovo piano strategico della PAC 2023-2027, infatti, il turismo è concepito sia in termini di attrattività dei territori che di diversificazione. Per il potenziamento delle attività turistiche sono state stanziate ad hoc risorse per 118 milioni di euro, di cui il 64% destinate all'agriturismo, il 21% per investimenti finalizzati ad aumentare l'attrattività delle aree rurali e il 18% per sostenere le attività di cooperazione per il turismo rurale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!